Anche quest'anno, come da tradizione, il Corpo dei Vigili del Fuoco ha celebrato la festa di Santa Barbara, protettrice dei pompieri e di chiunque abbia a che fare con il fuoco come i minatori. La Santa Messa in Cattedrale è stata celebrata dal Vescovo Russotto, accompagnata dal coro composto dai giovani studenti del Liceo Pietro Mignosi, presenti assieme ai giovani dell'Istituto Mottura e alle autorità locali. Dopo la cerimonia, la lettura della preghiera del Corpo e dei messaggi di auguri da parte del Ministro dell'Interno, del Capo Dipartimento e del Capo dei Vigili del Fuoco. Il discorso del Comandante di Caltanisset, le consegne degli attestati. Infine, come ogni anno, la spettacolare deposizione delle corone sul frontale della Cattedrale, effettuato dal nucleo speleo alpino fluviale. La festa è, come sempre, un'occasione per il consuntivo dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi. La festa di Santa Barbara per noi è un giorno di grande festa, per noi e per le nostre famiglie che ci sostengono in questo lavoro che è quasi una missione. Ed è un momento di riflessione nel quale traiamo il consuntivo dell'attività che abbiamo svolto durante l'anno. Quindi è un consuntivo fatto di tanti interventi quotidiani di soccorso tra i cittadini. Quest'anno Caltanissetta, nella provincia, ha effettuato 6.300 interventi tra soccorsi a persone, incidenti stradali, dissesti statici, incendi di varia natura. Ma, oltre all'impegno profuso nell'attività di soccorso, i Vigili del Fuoco sono impegnati nell'attività di prevenzione, nel controllo ispettivo delle attività nei luoghi di lavoro, nelle attività artigianali, industriali e civili della nostra provincia. E svolgono un'importantissima, ritengo, opera di diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, tra i bambini dell'infanzia e della scuola elementare. Abbiamo raggiunto con dei progetti, insieme al Proveditorato di Studi di Caltanissetta, circa 3.500 bambini e quindi i loro ambiti familiari. Ed è un'importante tappa verso quel processo di diffusione della sicurezza per rendere i cittadini consapevoli dei rischi e delle misure di autoprotezione, sia in calamità ma soprattutto negli ambienti domestici e lavorativi. È anche un momento nel quale noi facciamo un po' i progetti per il nostro futuro. Nonostante il momento di ristrettezza economica in cui versa il nostro Paese, noi non arretriamo ad un passo rispetto agli standard di sicurezza che garantiamo ai cittadini. Abbiamo un progetto di riqualificazione del personale attraverso una costante formazione e attraverso il mantenimento delle attrezzature di soccorso che nella provincia di Caltanissetta sono al servizio della comunità.